un saluto e ben ritrovati all'appuntamento con gli europei di calcio mancano ancora tre giorni all'appuntamento a Wembley che metterà in palio la qualificazione ai quarti dell'europeo ma le grandi manovre sono già ovviamente cominciate dopo la mezza giornata di relax e di lunedì Roberto Mancini ha iniziato da ieri a Coverciano il lavoro di preparazione per la sfida di sabato sera con l'Austria la prima da dentro o fuori di questa avventura continentale la speranza del commissario tecnico fin qui accompagnato da applausi elogi e squilli di tromba sarebbe confermare la stessa Italia a cui sono bastate le prime due gare contro Turchia e Svizzera per superare la fase a Gironi sei gol realizzati e zero subiti prestazioni e risultati che hanno suggerito a Mancini di adottare nella terza e ultima partita contro il Galles un ampissimo turnover ben otto cambi nella formazione titolare poi nel corso della gara sono subentrati altri azzurri al debutto in questo europeo una scelta che ha fruttato comunque vista l'ennesima vittoria conquistata per uno a zero ancora senza subire gol un successo che ha permesso a Mancini di eguagliare lo storico primato di Vittorio Pozzo 30 risultati utili di fila si annunciano giorni quanto mai intensi e impegnativi per il commissario tecnico che mai come stavolta dovrà fare delle scelte delicate a cominciare dal centrocampo Manuel Locatelli è stato determinante nelle prime due gare con una doppietta e ottime prestazioni Marco Verratti al debutto europeo contro il Galles dopo l'infortunio al ginocchio destro ha disputato una prova più che convincente sul piano tecnico e fisico e quindi chi sabato affiancherà nel mezzo gli intoccabili Giorginio e Barella altro rebus tornerà Berardi a destra nel tridente con immobile Insigne o potrebbe candidarsi Chiesa che all'esordio da titolare domenica sera è stato premiato uomo del match il giocatore del sassuolo ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi in gruppo dopo qualche acciacco e dunque a meno di imprevisti si candida per riprendersi il posto più delicata appare la posizione di Giorgio Chiellini e di Alessandro Florenzi il capitano azzurro sta cercando di smaltire il problema ai flessori accusato nel corso della gara con la Svizzera ieri ha lavorato ancora a parte ma è tornato a correre nessuno nel clan azzurro per adesso vuole sbilanciarsi l'obiettivo è recuperarlo per la sfida con l'Austria ma serve cautela non dovesse farcela toccherà da Cerbi accanto a Bonucci al momento l'azzurro più in dubbio è Florenzi neppure sceso in campo ieri pomeriggio per lui solito programma differenziato dopo il risentimento al polpaccio non dovesse recuperare spazio a Di Lorenzo o Toloi quel che è certo è che d'ora in poi è vietato sbagliare se si vuole continuare ad alimentare il sogno di arrivare fino in fondo cavalcando l'onda di questo momento magico con il gioco che incanta i record che abbagliano e con la gente tornata ad entusiasmarsi per la nazionale è la cosa più straordinaria che a mio avviso ha fatto finora il nostro ct ha detto bernardeschi al sito della uefa una sola increspatura le critiche perché solo 5 degli 11 titolari azzurri domenica contro il galles si sono inginocchiati aderendo all'iniziativa solidale del movimento black lives matter contro le discriminazioni razziali ma noi siamo tutti contro il razzismo anche chi non si inginocchia il messaggio lanciato ieri da coverciano per il resto l'italia di mancini vuole continuare a sognare a far sognare vivo una favola e voglio godermela divertirmi e fare di tutto perché abbia il lieto fine lo slogan del più giovane del gruppo il 21enne giacomo raspadori presente azzurro e futuro roseo